Ha chiesto di intervenire il consigliere Abbate, pregone a facoltà. Ma intanto diamo il benvenuto al professor Carrer, due presenze importanti questa mattina in consiglio, il professor Carrer e il sindaco Melucci che dopo lunga assenza ritorna in consiglio comunale. È un evento, ci vorrebbe quasi una standing ovation per questo beneficio, questo regalo che il sindaco ha dato alla città e ai consiglieri. Ma al di là di questa battuta, intanto ravviso il fatto che sarebbe stato opportuno sin d'ora, ripeto sin d'ora e non procrastinare, l'invito agli ordini professionali, in primis all'ordine degli architetti. Penso che siano i maggiori attori, le voci più coinvolte per questo futuro Pug. Quello che noto è una mancanza di pianificazione e di programmazione da parte dell'amministrazione comunale. Un Pug dovrebbe precedere, dovrebbe essere prodromico a tutti gli atti successivi. Qui si avrà una definizione del comparto 32 prima ancora della redazione definitiva del Pug. È come se decidessi in quest'aula di rifare completamente l'aula e prima ancora di rifarla, già al centro ci troviamo una colonna, una statua che sarebbe condizionante a tutto il resto. Vedete, per quanto riguarda il comparto 42, come anche giustamente sottolineato dall'ordine degli architetti, c'è stato un approccio semplicistico da parte di questa amministrazione comunale. Noto come in questa amministrazione sia molto proiettata al consumo del suolo piuttosto che ad un'ottica di rigenerazione e di riuso. Bisognerebbe andare a guardare all'interno del territorio costituito e riqualificare le aree compromesse, anziché programmare un qualcosa non ancorandosi a quello che già esiste. Ho sentito parlare di un Pug che rientrerebbe nel discorso dell'ecosistema, del piano di transizione giusta. Vorrei sapere quali sono i benefici visibili di questo ecosistema Taranto, ditemelo, un'amministrazione completamente piegata rispetto alla grande industria. Chiamasi Ilva e Xilva chiamasi Eni. Mi piacerebbe ancora capire il Pug come si rapporterà rispetto al costruendo all'infinito San Cataldo, il quale essendo stato, lo si sta realizzando in un'area vergine e si rischia il fatto che possa diventare una cattedrale nel deserto. Dicevo, molte scelte che sono già state fatte rispetto alle quali paradossalmente il Pug si dovrà adeguare, non il contrario. E tutto il resto che deve essere in funzione del Pug, qui abbiamo il contrario. L'ho detto per il comparto 32 e lo dico anche ai fini per quanto riguarda la mobilità sostenibile, le BRT. Mi piacerebbe sapere ancora quale sarà, lo si può dire apertis verbis, coran populo, senza problemi, il compenso del professor Carrer. Massimo rispetto per carità per la sua insigne e indiscusse ed indiscutibile professionalità, ma vorremmo saperlo. Saperlo perché poi alla fine questi sono soldi dei cittadini. Io avrei preferito più puntare direttamente sulle professionalità, sugli architetti tarantini che senza nulla togliere alle indubbie e enormi capacità del professor Carrer, certamente non avrebbero sfigurato. Una città che si sollazza, che vive nel futuro, un po' come l'aerospazio. Si negano i voli civili e poi si parla di aerospazio. Si parla di progetti faraonici, megagalattici, vedi anche lo stadio che sembra quasi che il Taranto debba ospitare la finale di Champions League avendo poi una miserie di 16.000 posti. Ma al di là di questo, ecco, meno fantasia, meno iperuraneo delle idee, usando un'espressione di Platone, meno sogni. Parliamo delle emergenze stringenti del territorio. Le invito a concludere, consigliere. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Una città invasa dai rifiuti, una città in cui le utenze pubbliche e private possono fare i comodacci loro, possono distruggere strade e marciapiedi senza che ci sia un adeguato. Grazie, grazie consigliere Abbate. Sta andando però in un tema diverso dal pubblico. Ho sforato di 28 secoli. No, no, per il tempo. Dicevo per il tema. No, e questo lo stabilisco io, Presidente. È la solita musica. Lei deve attenersi fin quando io non sono offensivo, non leggo la dignità di nessuno. Sto esprimendo una mia valutazione politica, lungi da ogni attacco ad persona, lungi da me. Mi ha fatto anche perdere il filo del discorso. Era la Champions League. Per quanto riguarda l'assessore Marasco, benvenga questo amore della regione Puglia verso Taranto. Peccato che Taranto dalla regione Puglia sia trattata come la sorellina povera. La sorellina povera vedi per esempio il discorso dell'aeroporto. Ma questa è tutta un'altra storia. Ripeto, da parte mia c'è la massima collaborazione per un Pug che davvero possa dare una svolta alla città. Ma le premesse sono purtroppo tutt'altro che incoraggianti. Grazie consigliere Abbate.